Le dimissioni di Giovanni Mattucci sono tutt'altro che un capitolo chiuso a Teramo. Dopo gli attacchi da parte dell'opposizione e le perplessità esternate dai cittadini sulle motivazioni dell'ex presidente, il gruppo consigliare di maggioranza al centro per Teramo chiede a gran voce di aprire una riflessione sul contenuto della nota e non minimizzare quanto accaduto. Il presidente Mattucci ha fatto delle considerazioni e su queste bisogna aprirci un tavolo politico, aprirci delle riflessioni perché un presidente della TEM che si dimette merita questo. Abbiamo fatto delle considerazioni che essendo la società più importante del Comune vada approfondito tutto quello che ha messo sul tavolo Mattucci nella sua lettera di dimissione e staremo aspettando, aspettiamo con ansia questo tavolo politico. Il sindaco mi sembra che ha nominato il nuovo presidente come una figura funzionale e ha detto che sta prendendo in considerazione le riflessioni di Mattucci ed aprirà questo tavolo politico. Stiamo aspettando questo. Intanto si aspetta la seduta del Consiglio dove si parlerà appunto della Teramo Ambiente. Beh, sarà un consiglio che non si andrà a votare, questo ci hanno detto, però è un consiglio che sarà pieno di riflessioni da parte di proposte da parte di tutti.